Grazie mille, buongiorno a tutti, vi ringrazio infinitamente per l'invito e userò una piccola parte del mio tempo all'inizio e alla fine al di fuori della presentazione tecnica che l'associazione mi ha preparato. Me lo consentirete ma credo che sia nello spirito di quello che ho sentito in apertura e dalla dottoressa Bastioli nella sua presentazione e nello spirito di tutte le presentazioni che hanno preceduto. I ringraziamenti sono veramente sentiti per due motivi, uno personale che vorrei condividere e uno più professionale, credo che sia quello più importante per l'obiettivo per cui siamo qui. Quello personale è che io sono nato non lontano qui, sono nato a Ferrara anche se il mio cognome è chiaramente del sud Italia e sono nato a Ferrara perché mio padre faceva l'ingegnera alla Montecatini. Sono cresciuto a Milano perché mio padre è stato chiamato a Milano in sede centrale, Montecatini poi Montedison, quindi questo nome per me ha un richiamo alla mia infanzia e un valore affettivo molto importante perché conserva insieme alla novità, contiene la radice di qualcosa a cui sono affezionato. Il motivo professionale è sicuramente più interessante, immaginate che un presidente di associazione venga invitato come purtroppo accade ad una quantità di tavole rotonde, di presentazioni dove si esce esattamente come si è entrato senza aver imparato niente, senza aver raggiunto niente, anzi avendo perso due ore, quattro ore o magari una giornata. Io qui sto imparando delle cose e quindi vi sono grato perché è un'occasione più unica che rara, sto imparando delle cose considerando il mio punto di partenza, io sono medico e lavoro da 30 anni nell'industria prima farmaceutica, poi biofarmaceutica, adesso pura biotecnologica nelle terapie avanzate, addirittura nella terapia genica cellulare più avanzata che ci sia al mondo. E con questi presupposti, con una qualche arroganza, guardo il resto del mondo da parte di un'industria che salva la vita, in parte salva la vita ai bambini. Oggi imparo che magari in maniera un filo più indiretta anche voi salvate la vita alle persone, quindi questo per me è un grande valore e quindi è ancora più importante avere una vostra rappresentante, Giulia Gregori, nel comitato di presidenza dell'associazione. Vengo al tema che in realtà è un po' più ampio delle bioplastiche, di cui non potrei venire naturalmente a parlare in casa vostra, di cui sono totalmente incompetente, ma allo stato della biotecnologia in Italia e a quello della biotecnologia bianca industriale nel nostro paese. L'Asso Biotech è una strana associazione nel mondo confindustriale, perché è l'unica associazione che unisce le aziende per tecnologia e non per settore merceologico. Se andate a guardare tutte le altre, tutte sono verticali per area merceologica. Noi riuniamo le biotecnologie rosse, quelle bianche e quelle verdi, adesso ho imparato che sono anche quelle blu e quelle grigie, ma diciamo tutti i settori e abbiamo anche un altro privilegio. Abbiamo tutte le dimensioni, cioè noi abbiamo degli associati che hanno riunito una start-up di tre ricercatori o i parchi scientifici, gli incubatori e abbiamo la Pfizer, che è la più grande azienda biofarmaceutica del mondo. Quindi abbiamo una visione un po' peculiare e con questa visione vorrei portarvi attraverso questa breve agenda, partendo dal disegno, dalle figure, dai numeri generali della biotecnologia in Italia a qualcosa di più peculiare e specifico. Ora, il grafico che vedete è, senza entrare nel dettaglio dei numeri, il grafico della crescita della biotecnologia. Il messaggio è che il biotech, anche in anni di crisi, è un settore anticiclico, quindi questo è certamente un'area dove investire, un'area che può portare crescita, pillo, occupazione e sviluppo anche nei momenti di crisi. Il secondo elemento ci dà un punto di forza, è anche la prima area su cui dover intervenire a livello complessivo nella biotecnologia, che è il numero delle imprese. Vedete, ci sono quasi 500 imprese biotecnologiche, ma se andate a guardare il fatturato, poi lo vedremo immediatamente dopo, la dimensione, abbiamo un sacco di lavoro da fare per essere competitivi a livello mondiale. Perché oggi siamo in un'assoluta eccellenza, la partnership con gli Stati Uniti e il vostro footprint internazionale non ha bisogno di commenti per dire che questa è un'eccellenza assoluta. I vostri stabilimenti che sono first in class, sono flagship in molti settori, non hanno bisogno del mio commento per dire che siamo nell'eccellenza, ma se parliamo di sistema Italia abbiamo bisogno di fare qualche passo avanti. Perché questa è la doppia fotografia della biotecnologia in Italia. Vedete che un po' più di metà è biotecnologia nelle scienze della vita, un quarto è biotecnologia bianca, l'altro quarto se lo dividono l'agroalimentare e le tecnologie abilitanti. Nell'altra torta abbiamo un altro elemento che ci dice che il 75% delle nostre aziende non sono piccole e medie imprese, ma sono micro e piccole. E questo è l'area dove noi stiamo cercando di lavorare per superare questo gap che ci fa essere dei player in molti settori ancora marginali all'interno di uno scenario internazionale che sta crescendo. Dove siamo? Dov'è la biotecnologia? Non è una sorpresa vedere che la Lombardia fa la parte del leone, la fa soprattutto nella biotecnologia per le scienze della vita. È notizia di questi giorni la luce verde a Human Technopol che in qualche modo attirerà ancora di più in Lombardia investimenti in ricerca, innovazione, in conoscenza. E quindi questo è il driver. Ma vedete anche che ci sono varie altre regioni che giocano un ruolo importante sia in termini di intensità di presenza industriale sia in termini di produzione di fatturato. E in particolare volevo soffermarmi sul dato della ricerca appunto confrontata ad altri settori la percentuale di fatturato reinvestito in ricerca nel mondo della biotecnologia è tra più alti trasversalmente a qualsiasi settore. Abbiamo visto il vostro che è elevatissimo, la biotecnologia mediamente investe il 27% del suo fatturato in R&D, se andiamo a guardare soltanto le aziende Pure Biotech e quelle italiane siamo sopra il 90%. Il dato, non nascondiamocelo, è inficiato da quello che ho detto prima, cioè dalla piccola dimensione e quindi è un 90% molto alto in percentuale, purtroppo ancora piccolo in valore assoluto. Certo è che la biotecnologia non è soltanto un driver di potenziale sviluppo per l'economia ma è anche un grandissimo driver di occupazione perché nel investire il 27-30% del proprio fatturato in ricerca crea anche una potenziale di occupazione che da istituti internazionali, non dall'associazione italiana, viene misurato in 5 occupati nell'indotto per occupato nella pura biotecnologia. Questo in un paese come il nostro che ha ovviamente un grande bisogno di ricominciare a crescere sia in termini di PIL che in termini di occupazione è particolarmente importante. Se poi pensiamo, l'abbiamo visto anche nella presentazione della dottoressa Bastioli, che l'occupazione che noi siamo in grado di produrre è un'occupazione particolarmente qualificata, ecco che non può che risultare evidente a tutti quanto il biotech debba essere negli anni futuri uno dei driver di questo paese. Il white biotech all'interno del totale della biotecnologia in Italia, come abbiamo detto, rappresenta il 24% delle imprese ed è in qualche modo ancora sta muovendo i suoi primi passi, quindi ha una caratteristica ancora più allettante, ancora più attraente che è quello di un grandissimo potenziale. Io sono stato recentemente, due settimane fa, a Londra in una missione del Ministero del Sviluppo Economico con la sua Italia Trade Agency che presentava quattro settori all'ambasciata italiana a Londra, sotto la guida del sottosegretario dell'On. Scalfarotto, ha 120-130 potenziali investitori inglesi e questo roadshow, l'ITA lo continuerà a fare a Dubai, poi a San Francisco, eccetera. C'erano due settori tradizionali, il real estate e l'automotive e poi c'era l'aerospazio e la biotecnologia. Naturalmente è con un po' di orgoglio che mi permetto di condividere con voi che real estate e automotive sono certamente molto interessanti, in Italia ci sono delle situazioni immobiliari straordinarie, produciamo delle macchine sportive meravigliose, ma che tutto l'interesse era per la biotecnologia e l'aerospaziale. Quindi certamente il potenziale futuro di questo settore dove voi operate, dove noi cerchiamo di operare al vostro servizio, è assolutamente importante. Non vi parlerò di bioraffinerie perché sarebbe come andare a insegnare a casa di un professore universitario, ma due numeri per dire che nel 2010 i prodotti di industria chimica creati con almeno un passaggio di tipo biotecnologico portavano a 92 miliardi di euro globalmente. Nel 2015 la stima era di 228 miliardi con una previsione di superare i 500 miliardi nel 2020. Io condivido e apprezzo moltissimo lo spirito che unisce impresa, sociale e ambiente. Come rappresentante di un'associazione industriale mi sto soffermando maggiormente sui numeri, ma è evidente che un settore che ha un potenziale di crescita del 20% all'anno è difficile da trovare se andiamo a guardarci intorno in altri settori. Se ci soffermiamo sulla biotecnologia bianca, dove sono i nostri impianti? Voi giocate un ruolo importante come società, vedete che sono rappresentati in giallo quelli che sono flagship facilities, flagship manufacturing sites, quindi primi al mondo nel singolo settore. Vedete che in questo caso abbiamo una forte concentrazione in Piemonte, abbiamo una forte concentrazione in Umbria, cosa che per esempio nel settore delle scienze della vita non succede. E quindi la costruzione di cluster a cui voi state partecipando come driver, ma dove anche cogliete le opportunità del territorio, diventa molto importante per costruire non soltanto delle catene dei processi, ma anche dei cluster di competenza tecnologica, di competenza professionale. Il settore della bioeconomia di cui si è parlato in precedenza e in precedenza veramente ho imparato molte cose ascoltando i relatori che mi hanno preceduto, ci dice che dal centro ricerche di Intesa San Paolo il potenziale confrontato dell'Italia con gli altri paesi è di 20 miliardi soltanto per biochemicals. Questo vuol dire che è giusto investire in questo settore e che le posizioni potenziali, gli occupati potenziali nel settore senza considerare indotto possono arrivare facilmente a 29-30 mila addetti nella sola parte biochimica che segue tutta la filiera che va dall'agricoltura passando per l'impresa del legno, della carta, eccetera. La fotografia degli Stati Uniti ci dice 4 milioni di occupati, 369 miliardi di dollari di fatturato da questo settore e quindi ci indica la strada e in Italia abbiamo la filiera, abbiamo le competenze e quindi crediamo di poter giocare una parte rilevante non da mercato o da spettatore come ci succede in altri settori nel mondo della bioeconomia. Concludendo e poi vengo alla parte che vi dicevo non di dati, risultiamo competitivi. Le partnership che voi stessi siete in grado di chiudere con partner non soltanto italiani ma internazionali ci conferma questo elemento. Le aziende negli altri settori, è recentissimo l'accordo fra una start-up dentro il Parco San Raffaele di Scienze della Vita che si chiama Genenta con la Amgen che è la più grande biotech al mondo americana nelle biotecnologie RED. Naturalmente queste partnership non si concludono grazie ai buoni rapporti ma si concludono grazie all'eccellenza. Quindi eccellenza qualità della nostra ricerca, eccellente qualità delle nostre persone, capacità di creare network e filiera, ecco perché noi vediamo un futuro brillante e in casa vostra siamo fieri di avervi associati in Assobiotech e vi chiediamo di aiutarci ad aiutarvi. Noi pensiamo come associazione, quando mi metto il cappello da presidente di Assobiotech e non quello da CEO di Molmed, che i nostri azionisti siano gli associati. Noi viviamo perché degli associati credono che noi possiamo fare qualcosa per migliorare l'ecosistema nel quale loro lavorano. Noi adesso stiamo passando da uno slogan che abbiamo usato per anni con gli interlocutori istituzionali che è quello del dialogo e della collaborazione perché questo lo vediamo effettivamente ormai nei fatti, questo sta succedendo. Il dialogo ormai è arrivato con i ministeri competenti, il MISE, il MEF, l'agricoltura, la salute e il ministero della ricerca. Oggi stiamo dicendo uno slogan nuovo, stiamo dicendo execution. Chiudo dicendo quello che ho sentito dalla presentazione della dottoressa Bastioli è la politica del fare. Ci sediamo, ragioniamo, mettiamo insieme gli elementi, dopodiché dobbiamo vincere insieme alla burocrazia. Il sindaco all'inizio diceva uno dei mali nascosti, ma neanche tanto, del nostro paese. Un altro dei mali è parliamo tanto, analizziamo tanto e poi ci fermiamo quando si tratta di passare all'azione. Questo stabilimento è una dimostrazione che dopo i progetti, dopo le analisi, siete passati ai fatti e i fatti li avete realizzati e oggi questo stabilimento è operativo. Noi nel facilitare lo sviluppo della biotecnologia d'Italia stiamo cercando di fare la stessa cosa. Discutiamo, analizziamo, capiamo, approfondiamo, dopodiché passiamo ai fatti e come diceva il mio vecchio Siona e la mia precedente azienda, la strategia è importante, ma l'execution lo è ancora di più. Quindi aiutateci ad aiutarvi perché noi siamo vivi come associazione perché abbiamo associati come voi. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.